Il sindacato non ci sta e ha avviato una serie di iniziative per protestare contro l'ordinanza del perfetto Pizzi che vieta gli assembramenti davanti alle portinerie della zona industriale. Questa mattina è andato in scena il programmato sit-in della CGL in piazza Pancli per chiedere il ritiro dell'ordinanza. L'ordinanza desta grande preoccupazione complessivamente nel territorio a partire dalle organizzazioni sindacali. Siamo di fronte ad un segnale pericoloso di deriva dei diritti alla manifestazione e alla libertà del pensiero. L'aria che si respira è un'aria molto pesante in tutto il paese, pesante nella nostra regione e pesante sul nostro territorio. Basti pensare che in poche settimane in Sicilia due episodi gravissimi di limitazione della libertà si sono verificati uno a Palermo col caso della professoressa dell'aria e l'altro a Siracusa. Rispetto a questo tentativo di arginare sempre di più le libertà democratiche, le organizzazioni sindacali, la CGL metterà in campo tutte le sue prerogative affinché un provvedimento di questa natura venga ritirato. Mentre la Will ha programmato per martedì un presidio proprio nella zona industriale anche la CISL lamenta che pur richiedendo un incontro con il rappresentante del governo non ha ancora ricevuto alcuna convocazione. Riteniamo necessario un confronto, dice il segretario della CISL Paolo Sanzaro che rimanendo nell'alveo delle norme che disciplinano lo sciopero sulle quali tra l'altro le organizzazioni sindacali hanno sempre dimostrato responsabilità possa chiarire i contorni di una vicenda che ha creato malumore tra i lavoratori.